Salve a tutte e tutti, eccoci come promesso al secondo video sulla rivoluzione americana. Quest'oggi in particolar modo parleremo della guerra delle colonie americane contro l'Inghilterra, della nascita degli Stati Uniti e soprattutto della Costituzione americana. Nel video precedente avevamo descritto la condizione delle 13 colonie e avevamo esposto le cause della rivoluzione americana. Nella descrizione sotto questo video troverai un link cliccando sul quale potrai ascoltare il video precedente. Il video precedente terminava ricordando quali atti il governo e il Parlamento inglese avessero intrapreso per limitare l'autonomia delle colonie e per impedire alle colonie di organizzare la propria politica economica in modo indipendente, in modo autonomo. Una serie di atti che arrivano al culmine nel 1773 perché in quell'anno il primo ministro inglese North conferì alla Compagnia delle Indie Orientali il monopolio del commercio del tè. Dunque stabilì che soltanto la Compagnia delle Indie Orientali poteva importare o esportare il proprio tè e quindi anche le colonie americane erano obbligate a comprare il tè dall'India. La reazione dei coloni americani non si fece attendere perché essi affondarono una nave carica di tè che era ferma nel porto di Boston e questo avvenimento passato alla storia come Boston Tea Party rappresenta l'inizio della conflittualità con l'Inghilterra. L'Inghilterra interpretò questo atto dei coloni americani al porto di Boston come un atto ostile, è un atto di insubordinazione, tant'è che prese dei provvedimenti particolarmente severi. Il Parlamento infatti stabilì la chiusura del porto alle navi non inglesi, lo scioglimento dell'assemblea del Massachusetts, l'obbligo per le colonie di finanziare l'esercito inglese e soprattutto nel Massachusetts tutti i giudici e tutti i funzionari di origine americana vennero mandati via, subirono la revoca dell'incarico e vennero scelti funzionari inviati direttamente dall'Inghilterra. A questo punto la guerra è praticamente dichiarata e dunque le colonie debbono organizzarsi. Si organizzano nel corso di due congressi tenuti entrambi a Filadelfia e nell'occasione di questi congressi innanzitutto le colonie decisero di organizzare un proprio esercito coloniale. Quindi lo crearono, reclutarono i membri dell'esercito e scelsero come generale Washington, George Washington. La data più importante in questo contesto, che è anche emblematica dell'indipendenza degli Stati Uniti e la data che oggi gli Stati Uniti indicano come data di nascita della propria nazione, è il 4 luglio 1776, il giorno in cui le colonie approvarono la dichiarazione di indipendenza. La dichiarazione di indipendenza era stata materialmente scritta da Thomas Jefferson, che era il deputato della Virginia, però in questo lavoro di stesura della dichiarazione era stato coadjuvato da un comitato all'interno del quale era presente anche Benjamin Franklin. La dichiarazione di indipendenza contiene sia un elenco dei torti che le colonie sentivano di aver subito da parte della madrepatria e soprattutto contiene un preambolo in cui si fa riferimento ai diritti fondamentali. Infatti per la prima volta in questa dichiarazione di indipendenza viene nominato questo nuovo Stato, gli Stati Uniti d'America. Si fa riferimento a diritti naturali e al tradizionale spirito religioso americano derivante dal fatto che gran parte delle colonie erano state fondate anche per motivi religiosi. L'indipendenza viene proclamata per difendere i diritti alla vita, alla libertà e alla proprietà che Dio ha concesso all'uomo quando lo creò. Fin qui siamo di fronte ai diritti liberali, però accanto ai diritti liberali di matrice locchiana si fa riferimento anche ad un altro diritto, la ricerca della felicità. E poi in questo testo la ribellione viene giustificata dal fatto che i diritti inalienabili concessi da Dio all'uomo sono stati negati dall'Inghilterra. Inalienabile è quel diritto al quale la persona non può rinunciare nemmeno se lo volesse. Andiamo a leggere l'incipit della dichiarazione di indipendenza che è uno dei documenti più importanti della modernità. Quando nel corso degli eventi umani diviene necessario per un popolo rescindere i legami politici che lo legavano ad un altro ed assumere tra le potenze della terra la posizione separata ed uguale alla quale le leggi della natura e del Dio della natura gli danno titolo, un giusto rispetto delle opinioni dell'umanità richiede che essi manifestino le cause che li costringono alla separazione. Noi teniamo per certo che queste verità siano di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati o uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi vi siano la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità, che per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli uomini e i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che quando un qualsiasi sistema di governo diventa distruttivo di questi fini è diritto del popolo di alterarlo, di abolirlo e di istituire un nuovo governo, ponendone il fondamento su questi principi ed organizzandone i poteri in una forma tale che gli sembri la più adeguata per garantire la propria sicurezza e la propria felicità. Dunque, come vediamo, fra i diritti inalienabili abbiamo la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Ma abbiamo anche un altro elemento fondamentale. Questi diritti devono essere tutelati da governi i quali possono mantenere il potere soltanto finché godono del consenso dei governati. Quindi il potere non deriva né da Dio né dalla natura, ma dal consenso dei governati, i quali, se si dovessero rendere conto che il governo non persegue più i fini per cui è nato, hanno il diritto di sovvertire quel governo e di sceglierne un altro. A questo punto, ovviamente, la dichiarazione di indipendenza, gli atti di insubordinazione costituivano motivi per l'Inghilterra di dichiarare guerra. E quindi, costituito l'esercito che aveva alla propria guida George Washington, arriviamo agli scontri. Ma siamo di fronte a due eserciti assai diversi tra di loro. Cioè, mentre l'esercito inglese era molto ben organizzato e esperto, capace di combattere anche perché aveva combattuto molte guerre, l'esercito dei coloni era un esercito entusiasta, ben motivato, ma era male organizzato e mancava di approvvigionamenti. Inoltre, gli inglesi, oltre a poter avere un esercito ben armato, avevano anche l'appoggio di alcuni coloni che erano rimasti fedeli al re e ebbero anche la capacità di mobilitare gli indiani, cioè gli indios d'America, i nativi, contro i coloni. Alla fine, la situazione di stallo si risolse grazie all'ingresso in guerra di Francia e Spagna che vollero appoggiare i coloni americani contro la Gran Bretagna. E quindi, nonostante gli inglesi inizialmente avessero vinto alcune battaglie, i coloni riescono a vincere nella battaglia di Saratoga del 1777 e nella battaglia di Yorktown del 1781. I coloni ricorsero a una nuova metodologia bellica perché fondamentalmente, non avendo un esercito ben organizzato come quello inglese, scelsero la guerriglia, cioè piccoli attacchi con piccoli contingenti che arrivavano all'improvviso e sbaragliavano il grande esercito inglese che invece era ben organizzato e ben schierato. Ma in realtà i coloni americani vinsero perché seppero fare un ottimo uso della diplomazia internazionale sfruttarono dunque la volontà della Francia e della Spagna di isolare l'Inghilterra. Qui abbiamo un'immagine famosa della battaglia di Saratoga del 1777. l'Inghilterra iniziava a temere che questa rivolta e questa secessione e questa separazione da parte delle colonie americane potesse coinvolgere tutto l'enorme Commonwealth che era sotto il controllo britannico e quindi ritenne bene porre subito fine alla guerra per evitare che anche altre colonie oltre a quelle americane si ribellassero e pretendessero di staccarsi dal Commonwealth. È per questo che nel 1783 abbiamo la pace di Versailles. Ce la dobbiamo ricordare con la data perché nel corso della storia tante saranno le paci di Versailles. Abbiamo la pace di Versailles del 1783 con la quale l'Inghilterra riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti d'America e visto che in guerra come abbiamo detto avevano combattuto anche la Francia e la Spagna l'Inghilterra sconfitta dovette fare anche delle concessioni a queste altre due nazioni in particolar modo alla Francia concesse il Senegal e alla Spagna la Florida che quindi noi oggi chiamiamo Florida perché ha questo nome di origine spagnola. Però subito dopo la guerra emergono all'interno degli Stati Uniti alcuni problemi di carattere economico e politico perché queste colonie avevano sostenuto uno sforzo bellico ingente e quindi avendo sostenuto le spese per la guerra avevano la necessità di rientrare dei capitali investiti di rientrare dei soldi che avevano speso e poi soprattutto queste 13 colonie avevano un problema con la frontiera perché appunto il territorio era abitato da chi ne aveva diritto cioè i nativi americani e mentre i coloni avrebbero voluto espandersi il più possibile verso ovest gli indiani e ovviamente i nativi americani volevano impedirlo ad ogni costo e sono proprio queste difficoltà sia di carattere economico sia di carattere che potremmo definire seguritario cioè garantire la frontiera che impongono alle 13 colonie di ragionare su un percorso unitario cioè le 13 colonie si rendono conto che da sole sarebbero stati 13 piccolissimi stati indipendenti molto probabilmente in contrasto tra di loro e alla mercè almeno da un punto di vista economico dell'Inghilterra, della Francia e della Spagna e di tutte le altre nazioni che commerciavano quindi la loro condizione di debolezza li spinge a discutere di come costruire uno stato unitario ma che sia anche rispettoso delle peculiarità dei singoli territori questo è il federalismo dunque si avvia una diciamo così un confronto un dibattito all'interno delle 13 colonie fra chi voleva diciamo rimanere indipendente quindi chi voleva che le 13 colonie si gestissero ciascuna in modo autonomo e chi invece voleva divenire ad un tipo di governo più unitario e quindi voleva creare una federazione un fedus, un patto, un'alleanza fra le 13 colonie e di nuovo emergono anche qui quelle differenze fra nord, centro e sud che avevano caratterizzato la storia di queste colonie già dalla fine del 500 e lungo tutto il 600 differenze che sono soprattutto di carattere economico e produttivo infatti nel nord era diffuso un senso di autonomia e di indipendenza queste colonie del nord volevano l'autonomia anche perché erano accomunate da un orgoglio puritano e i puritani prediligevano come forma di governo delle piccole comunità indipendenti e quindi non volevano un governo federale anche al sud c'era poca propensione verso una scelta unitaria o federale perché il sud era popolato soprattutto da abbiamo detto grandi proprietari terrieri molto legati alle tradizioni è il centro in realtà la parte delle colonie americane che diventa propulsore della federazione perché al centro ci si rende conto che l'unità del paese poteva essere l'unica strategia per salvarsi dalla rivalità economica con l'esterno quindi ci si rende conto che se si voleva essere ancora competitivi sul mercato soltanto creando un'unione quantomeno doganale quindi un'unione economica e se possibile anche politica si poteva essere grandi abbastanza da restare competitivi a livello economico e ovviamente questa posizione era un auspicio fondamentalmente dei grandi commercianti e degli industriali che erano la classe di riferimento nel centro degli allora Stati Uniti di queste 13 colonie e quindi si sviluppa un vero e proprio dibattito costituzionale per poter dare agli Stati Uniti appena nati un documento a cui attenersi che tenesse insieme da una parte un po' con i bisogni le necessità dell'autonomia dei piccoli territori ma allo stesso tempo che garantisse l'unione quindi la federazione abbiamo soprattutto dunque chi vuole un governo centrale forte all'interno di una struttura federale quindi anche i federalisti volevano mantenere comunque delle autonomie locali cioè si rendevano conto della necessità che le autonomie locali in certo qual modo venissero tutelate però una parte dei poteri dei vari governi dei singoli stati dovevano essere conferiti a un governo superiore al governo federale pur lasciando tutta una serie di prerogative ai governi delle singole colonie che quindi nel frattempo sono diventati singoli stati componenti dell'unione poi c'era una parte minoritaria che invece voleva lasciare la maggior parte del potere in mano alle singole colonie quindi diciamo c'era una posizione più filo federalista che quindi voleva sì lasciare qualche autonomia ai singoli territori però conferire gran parte del potere quindi detto in altri termini la politica economica e la politica estera a un governo centrale e c'era chi invece voleva mantenere gran parte della politica in capo ai governi locali e delegare il meno possibile il potere all'ente superiore quindi al governo federale nascono dunque due opzioni politiche entrambe rappresentate all'interno del Parlamento abbiamo il partito federalista repubblicano che oggi è il partito repubblicano che trovava consensi soprattutto nei cedi mercantili del nord e del centro e fra questi spicca di nuovo George Washington che era stato se ricordiamo il generale dell'esercito che aveva vinto contro gli inglesi dall'altra parte invece abbiamo il partito democratico che era stato fondato da Thomas Jefferson e Madison a cui ho messo Jefferson che voleva un rafforzamento delle autonomie locali e quindi pur comprendendo la necessità del governo federale voleva dare a questo governo federale meno poteri e lasciare più poteri ai governi dei singoli stati e questo partito incontrava come dire l'appoggio dei proprietari in emigrazione verso il west quindi che volevano conquistare le terre al centro e all'occidente e presso ovviamente i latifondisti del sud che erano orgogliosi delle proprie tradizioni comunque il dibattito alla fine vede prevalere la posizione federalista leggermente mitigata diciamo così dall'intervento degli antifederalisti che portano degli emendamenti che comunque vengono recepiti e quindi possiamo dire che è una costituzione di mediazione in cui è chiaro che prevalgono i federalisti perché avevano la maggioranza ma sanno tenere conto anche del punto di vista della minoranza la costituzione viene elaborata nel 1787 e ratificata da tutti gli stati nel torno di due anni e quindi è proprio allora che viene eletto il primo presidente che è George Washington questa costituzione sulla base delle idee di Montesquieu prevede la tripartizione dei poteri quindi prevede che ci debbano essere tre poteri distinti potere legislativo il potere esecutivo il potere giudiziario e che ognuno di questi tre poteri non possa essere esercitato dalla stessa persona o dallo stesso gruppo quindi si stabilisce che a detenere il potere legislativo sia un congresso congresso che deve essere formato da due camere diversi una camera dei rappresentanti eletti il numero proporzionale in base alla popolazione degli stati quindi stati più grandi hanno più deputati stati più piccoli hanno meno deputati poi un senato che deve rappresentare gli stati quindi ogni stato a prescindere da quanto è grande manda due senatori quindi il senato rappresentava di più le esigenze degli stati componenti l'unione la camera dei rappresentanti invece rappresentava le esigenze della cittadinanza essendo elette a livello proporzionale fondamentalmente queste esigenze che travalicavano anche i confini dei singoli stati che compongono l'unione il potere esecutivo cioè il governo veniva affidato ad un presidente il presidente doveva essere eletto direttamente dal popolo e doveva avere ampi poteri perché contemporaneamente presidente della repubblica che è capo del governo quindi è capo dello stato e capo del governo cosa che per esempio in Italia non avviene perché il capo del governo e il capo dello stato sono due figure diverse ancora più interessante è come gli Stati Uniti organizzano il potere giudiziario che viene affidato ad una corte suprema che è composta da nove membri che sono nominati a vita dal presidente quindi questo significa che i vari giudici della corte costituzionale dal momento che sono nominati a vita rimangono in carica talvolta anche mentre ci sono dei cambi di governo e questo fa sì che dunque la corte suprema in certo qual modo abbia sempre rappresentanti di entrambe le formazioni politiche di entrambi i partiti la corte suprema ha però negli Stati Uniti come dire un potere incredibile sorveglia la giurisdizione ordinaria controlla l'applicazione della costituzione e dirime i contrasti tra presidente e congresso perché ci possono essere contrasti tra presidente e congresso perché nel sistema statunitense abbiamo questa modalità per la quale le camere non non si rinnovano contestualmente per intero ma ogni due anni se ne rinnova un terzo e tante volte ne sentiamo anche parlare quando sentiamo dire le elezioni di metà mandato quindi ogni parlamentare resta in carica sei anni però i parlamentari sono divisi diciamo così in tre gruppi e un gruppo arriva a scadenza in un anno due anni dopo c'è la scadenza di un altro terzo o due anni dopo una scadenza dell'altro terzo e quindi è chiaro che con questo rinnovo parziale del Parlamento ogni due anni ci possono stare dei cambi di maggioranza ma siccome il capo del governo e il capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo non decade anche il presidente a differenza di quanto avviene in Italia in cui noi non eleggiamo direttamente il capo del governo ma il capo del governo viene indicato diciamo così dal presidente della Repubblica ascoltate le principali forze rappresentate all'interno del Parlamento e il governo deve godere della fiducia parlamentare quindi nel momento in cui cambia la maggioranza all'interno del Parlamento in Italia cambia anche il governo negli Stati Uniti no perché appunto anche il presidente è eletto direttamente dal popolo e resta in carica quattro anni allora può capitare che ci sia all'interno del Parlamento una maggioranza diversa un orientamento diverso rispetto all'orientamento del presidente dunque si possono generare dei contrasti e questi contrasti vengono risolti dalla Corte Suprema allora tutto questo sistema statunitense questo esperimento democratico si basa su un principio di fondo che è il principio dei checks and balances che noi in italiano traduciamo sistema dei pesi e dei contrappesi perché si intende che dei tre poteri ognuno ha la possibilità di controllare gli altri due e ognuno dunque bilancia gli altri due quindi non prevale né il potere legislativo né quello esecutivo né quello giudiziario ma ognuno dei tre controlla e bilancia il potere degli altri due in maniera tale che non si scada mai in un governo autoritario o tirannico almeno questa era l'intenzione ovviamente degli estensori di questo documento di questo sistema e con la Costituzione americana siamo di fronte al primo esperimento democratico e repubblicano della modernità è un esperimento che a differenza di quanto avverrà nella rivoluzione francese riesce a durare nei secoli il primo breve esperimento repubblicano della rivoluzione francese dura soltanto due anni mentre l'esperimento statunitense pur con delle evoluzioni dalla fine del settecento a oggi è rimasto in vigore ora però dobbiamo riflettere su un piccolo particolare quando gli Stati Uniti hanno voluto scrivere questa Costituzione che comunque è innovativa perché appunto rifonda nella modernità un sistema che aveva avuto un'applicazione quantomeno nel nome soltanto in alcune città stato greche diciamo così nel quinto e nel quarto secolo avanti Cristo fondamentalmente quindi c'è un grandissimo tratto di innovazione ma quando si dice noi il popolo we the people dobbiamo prendere in considerazione anche gli elementi di come dire le limitazioni di questa popolazione quando loro dicono we the people loro fanno riferimento innanzitutto soltanto alla popolazione maschile quindi è escluso tutto l'universo femminile fondamentalmente rappresentano soltanto quella parte della popolazione che è di origine europea e si tiene fuori quindi tutto il resto della popolazione che sono i nativi che invece vengono colonizzati e conquistati quindi si condivide anche una confessione religiosa nel suo complesso e l'appartenenza al mondo occidentale quindi sono maschi bianchi fondamentalmente di religione protestante o anglicana e allo stesso tempo sono accomunati anche dall'aver scelto un sistema di voto scienziario cioè non ritengono che possano votare tutti i maschi bianchi e provenienti dall'Europa e già sarebbe una grandissima selezione all'interno del popolo ma possono votare e possono dunque prendere parte alla vita politica della città quindi votare ed essere votati soltanto coloro che dimostrano di pagare una certa quantità di tasse quindi il sistema di voto è censitario la giustificazione di fondo di questa ulteriore selezione era che per potersi prendere cura della cosa pubblica bisognava dimostrare di essere in grado di prendersi cura dei propri affari privati e quindi chi aveva ottenuto un successo nella propria attività economica successo parametrabile grazie alla capacità di pagare le tasse poteva partecipare alla vita politica chi invece a livello economico nella propria vita privata non avesse dimostrato questa capacità doveva essere escluso quindi è vero una grande innovazione democratica soprattutto se messa a paragone con i governi europei del tempo o monarchie assolute sul modello francese o esperimenti di dispotismo illuminato sul modello austriaco dispotismo illuminato caratterizzato comunque da un potere monocratico e paternalista quindi grande capacità da parte degli statunitensi di prevedere un sistema democratico e repubblicano ma con i limiti ancora operanti nella società del settecento e che rimarranno operanti anche nell'ottocento una democrazia dunque aperta soltanto ai maschi bianchi originari dell'Europa e di fede protestante sicuramente però una democrazia che comunque cercava di contemperare l'esigenza che dovesse essere a partire dai governati e dal consenso dei governati legittimata qualsiasi forma di governo quindi la possibilità di governare dunque il potere non deriva né da Dio né dalla natura ma dal fatto che chi governa assume su di sé il compito di tutelare dei diritti inalienabili e può detenere il potere soltanto con il consenso dei governati quindi una grande innovazione in questo senso ma con i limiti di una società che è ancora legata all'uomo maschio bianco occidentale che si riconosce in una confessione religiosa dunque io vi ringrazio per l'attenzione vi esorto ad effettuare l'iscrizione al canale perché questa rivoluzione insieme con la rivoluzione industriale e con la rivoluzione francese rappresenta il momento fondante della nostra contemporaneità cioè qui si gettano le basi con queste tre rivoluzioni di ciò che è il nostro presente la nostra convivenza presente quindi un'analisi approfondita di queste tre rivoluzioni permette di comprendere meglio le caratteristiche della nostra contemporaneità per questo di nuovo ringrazio per l'attenzione esorto ad effettuare l'iscrizione al canale così da poter portare avanti questo ragionamento sui limiti e sulle potenzialità della democrazia nella modernità e sulle poter portare avanti